voci dal coro a cura della parrocchia dei santi martiri dell'uganda una produzione radio più roma ciao a tutti sono federica ho 26 anni e vi volevo raccontare cosa significa per me far parte di un coro io ho scoperto questo mondo in maniera abbastanza scherzosa quando ero al liceo quando una mia amica mi aveva chiesto di far parte del suo coro dopo che mi aveva sentita cantare e dico in maniera abbastanza scherzosa perché per me era un modo semplicemente per conoscere nuove persone e non avrei mai pensato a tutte le cose che ci potessero essere dietro un coro io infatti con il coro ho imparato e continuo ad imparare tantissimo e tanto per dirne una ho scoperto dei generi musicali di cui ignoravo l'esistenza come i canti rinascimentali canti gregoriani canti barocchi che ho iniziato ad apprezzare solo cantando in un coro oppure sono venuta a conoscenza di alcuni canti popolari rappresentanti di una cultura con i suoi dialetti i suoi modi di pensare che io non avevo mai ascoltato prima o anche riadattare canzoni moderne in chiave corale mi ha sempre lasciato delle bellissime sensazioni per cui con il coro posso dire di essere cresciuta da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista tecnico gli amanti della musica perché si impara ad asperare in maniera corretta per poter cantare nella maniera migliore si imparano a leggere le note si imparano a leggere i tempi a rispettare i tempi e tante altre cose e quello che è secondo me il più grande valore aggiunto è proprio il sapersi ascoltare all'interno di un coro perché ci si corregge grazie all'ascolto ci si aspetta quando qualcuno rimane indietro cioè tutto il coro riesce ad adattarsi per rispettare i tempi ascoltando semplicemente gli altri e non si va mai a sovrastare la voce di qualcun altro ma ci si adatta proprio in base alla voce dell'altro e questo perché cantare in un coro non è più un cantare fine a se stesso come quando si canta sotto la doccia ma diventa cantare per un obiettivo comune e quando poi si canta offrendo un servizio come la domenica mattina in chiesa l'obiettivo comune diventa proprio il riuscire a coinvolgere quante più persone possibili infatti basta pensare a quante volte noi cantiamo semplicemente perché siamo contenti e allora perché non andare a condividere le proprie emozioni anche con gli altri secondo me tutti noi abbiamo bisogno di questi momenti di condivisione di sentirsi parte di una comunità ed il canto è proprio l'invito a far parte di una comunità e non solo per me i test delle canzoni sono delle vere e proprie poesie e il canto offre uno spunto di riflessione su quello che può essere il significato più profondo di una preghiera io infatti personalmente riesco sempre ad apprezzare meglio il testo di una preghiera a partire dal testo di una canzone e cantando sentendo cantare riesco a vivere in maniera molto più profonda il senso di gratitudine alla vita che noi stessi celebriamo durante la messa